Mary Kate e Ashley Olsen Mary Kate e Ashley Olsen, guida pratica all'outfit overseeds L'oversseeds è trendy, ma soprattutto arriva con una caratteristica che non è sempre scontata, è irresistibilmente comodo. Il focus assoluto di questo trend è l'effetto chic. Il must not, invece, è quello di sembrare trasandate. Ma la linea della perfezione è sottile I. A scuola di Oversize con Mary Kate e Ashley Olsen. Arriva l'autunno e tutte le donne hanno voglia di sentirsi comode, calde e protette. Il nostro soccorso quest'anno arriva il trend Oversize, portato avanti da criticate pioniere come Rihanna e le gemelle Olsen, che in materia di abiti troppo largi sono professioniste senza rivali. . E poi, il troppo, non è che una questione di punti di vista. . Ad esempio, chi lo ha detto che il lookover Sidze si adatta solo alle ragazze altissime? Ashley e Mary Kate Olsen non superano il metro e settanta, eppure sono le migliori sulla piazza. . Il trucco per mantenersi sempre al top con outfit di qualche taglia in più, è quello di mantenere un allure minimale e sofisticato. . Trench Oversize, cardigan abbondanti e camiccione effetto cadente. . Quando vogliamo vestirci Oversize, dobbiamo sempre puntare a un effetto minimale e a pochi elementi sofisticati che caratterizzino la nostra figura, celando i nostri punti forzi senza però svilire la nostra presenza. . Un trench blu navi che arriva sotto le ginocchia è il complemento perfetto ad una figura esile e un paio di decoltè in pelle. . La manica Oversize sopra il polso apre la figura e fa apparire le nostre mani più piccole e la nostra silhouette, in generale, più sottile. . Anche il cardigan di qualche taglia in più è un elemento perfetto da abbinare ad una camicetta e ad un paio di pantaloni effetto sartoriale. . Questo capo jolly che ci tiene calde anche in ufficio può diventare un elemento formidabile abbinato anche a bluse maxi. . 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